Abbiamo avuto modo di disquisire con l'Avvocato Giacomo Conserva su vari argomenti, varie tematiche di respiro regionale in vista appunto del rinnovo del Consiglio regionale pugliese. L'Avvocato Conserva, come detto, è candidato alla carica di consigliere regionale con la Lega a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. E allora, Conserva immagini di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore. Cosa si sente di dirgli per far sì che barri il simbolo Lega e scriva accanto Conserva? Io ho iniziato questa campagna elettorale mandando una lettera a tutti gli elettori, sia a Martina che in provincia. E questa lettera praticamente partiva da una frase di Sant'Agostino che diceva fondamentalmente che la speranza ha due bellissimi figli. Lo sdegno è il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose è il coraggio di cambiarlo. Lo sdegno da parte di tutti i pugliesi, di tutti i tarantini è tanto, è generalizzato, è sotto gli occhi di tutti quello che il centro-sinistra non è stato capace di fare negli ultimi 15 anni. E poi serve il coraggio. Il coraggio è quello di cambiare il nostro futuro. E' su questa frase che io invito gli elettori di tutta la provincia di Taranto a cercare di cambiare, avere il coraggio di farlo. Io come spot dico questo. Io in questo giro, così come Salvini e così tutti gli esponenti della Lega, metto la faccia. Voi metteteci il coraggio, quello di cambiare. Quindi il 20 e il 21 settembre non esitate a barrare il simbolo Lega e a scrivere conserva. Grazie.